No, al posto fisso di polizia aperto 24 ore su 24, ma solo uno spostamento dall'area del poliambulatorio al pronto soccorso dei due agenti presenti dalle 8 alle 20 al Santo Stefano. È questo riassunto del vertice del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica convocato dal prefetto oggi, dopo che sabato sera il pronto soccorso è stato devastato dalla follia di un quindicenne che ha anche ferito un vigilante e rapinato un anziano. La richiesta avanzata anche al Ministro dell'Interno, dal Nursind, il Sindacato degli Infermieri è stata dunque respinta dal prefetto. L'attuale organizzazione evidentemente viene ritenuta sufficiente. Mattina e pomeriggio due agenti, che a breve saranno fisicamente collocati dentro il pronto soccorso, sera e notte il controllo continuativo delle pattuglie di polizia, carabinieri e guardia di finanza a turno, con l'obbligo però, d'ora in avanti, di parlare direttamente con il medico di guardia per un aggiornamento costante della situazione. I servizi di vigilanza, che già da fine agosto sono stati intensificati nella misura massima possibile, soprattutto in orario notturno, continueranno secondo tali modalità e rafforzati finché sarà necessario, le parole del prefetto affidate a un comunicato stampa. E allora va detto che è necessario proseguire nel rafforzamento, visto il bilancio di sabato sera. Vetri spaccati, gente minacciata con un paletto sparti traffico, un referto di 21 giorni per il vigilante colpito alla testa e un anziano rapinato delle chiavi della macchina. E in mezzo a tutto questo, come ha denunciato il Nursind, più di una telefonata prima di vedere arrivare la macchina dei carabinieri. La prefettura, attaccata senza sconti dal sindacato, ha detto che quello che era stato promesso a fine agosto per arginare disordini e delinquenza al pronto soccorso è stato fatto. Pattuglie di notte e numero di telefono dedicato ai sanitari per un collegamento veloce con la sala operativa della questura. Il Nursind insiste sugli impegni disattesi e dice vigileremo ma il posto fisso di polizia H24 resta il nostro obiettivo. Obiettivo è facile immaginare di tutti, del personale sanitario e dei cittadini che al pronto soccorso ci vanno perché hanno bisogno di cure ma anche di tranquillità.